Ciao a tutti da Marco Domenconi, il vostro pifferaio magico preferito, nonché consulente musicale. Oggi parleremo dei fan, dedicato al mio amico Filo da Riccione, dedicato a Filo che è adoro i fan. Utilizziamo questo disco per il suo festa di compleanno a Wellness per vedere, più di 15 anni fa. Questo è chiamato Carry On, fan, da New York City. Dedicato a Filippo. Adesso Leo, da Riccione, mi ha suggerito questo gruppo per Filo, adoro alla sua festa. Il mio amico davvero questo album, ma è una bella parte, quindi grazie a Leo, da One Hotel, Riccione. Questo è chiamato Carry On, fan. Fan, un gruppo musicale indie rock, indie che vi ricordate cosa significa? Indie vuol dire indipendente, cioè una casa di scuola rapica piccola, snella, che dà spazio alla creatività degli artisti, a differenza delle major che guardano più che altro numeri e statistiche. Indie rock, quindi rock indipendente. I fan si sono formati a New York nel 2008 dall'Unione Artistica di Nate Wills, ex cantante dei format, che si erano appena sciolti da Andrew Dost, poi l'istrumentista proveniente dagli Anna Tallo e dal chitarrista e trombettista Jack Antonoff, ex membro degli Steel Train. Mi fanno pubblicato due album, Amen e Ignate, nell'agosto 2009, e Some Nights, questo, nel febbraio 2012. La notorietà del gruppo si deve a tre singoli, We Are Young, vincitore del Grammy Award, Some Nights e Carry On, che stiamo ascoltando ora. We Are Young ha raggiunto il primo posto in classifica nel Billboard Hot 100 e nella Top Digital Song. We Are Young, vincitore del Grammy Award, Grazie a tutti. We Are Young, vincitore del Grammy Award, And this is called We Are Young, dedicated to a fellow, who really loves this song. Tonight, we Are Young, we are Young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Some Nights I stay up cashin' in my bad luck, some nights I find you a little draw, some nights I find you a little draw, some nights I wish that my lips could build a castle, some nights I stay up cashin' in my bad luck. The band was formed by Natrus, Andrew Dost, and Jack Antonoff. I hope you enjoyed this program about fun. Spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata ai fan, e a filo, ciao! Ogni mattina un ospite di rilievo, con noi oggi Marco Domenicone. Spero vi sia piaciuta questa puntata, e a filo, ciao! Spero vi sia piaciuta questa puntata, e a filo, ciao! Spero vi sia piaciuta!